La crisi in Ucraina, sempre più sull'orlo di una guerra civile tra filo russi e filo europei, rischia di travolgere anche le altre regioni lungo il confine con l'Occidente. E' quello che sta accadendo in Gagauzia, regione russofona del sud della Repubblica Moldava, da sempre divisa tra Oriente e Occidente. Anche se nel febbraio del 2014 un referendum locale ha sancito che il 98% della popolazione Gagauza sarebbe favorevole a rapporti più stretti con il Cremlino, dicendo niet all'Unione Europea. Cosa mai potrebbe fare l'Unione Europea per noi, dice questo contadino, e come mai potremmo diventarne membri? Non parliamo nessuna lingua europea, senza contare che lì tutto è molto più costoso, a partire dalle tasse. L'orientamento del popolo Gagauzo però va contro i piani della Moldavia, che invece vorrebbe stringere un accordo per l'annessione all'Unione Europea entro il 2015. Non si tratta di sentimentalismi, spiega il governatore della Gagauzia, Mikhail Formusal, è invece un fatto pragmatico che attiene ai rapporti con la Russia, al desiderio di proteggere il mercato tra noi e Mosca e continuare a vendere i nostri prodotti in Russia. Se firmeremo l'accordo con l'Unione Europea ci troveremo ad affrontare seri problemi da questo punto di vista. Di recente il Cremlino, nel tentativo di conquistare il favore dei Gagauzi, ha posto un embargo alle esportazioni di vino moldavo. Ma nonostante questo gli osservatori vedono come una possibilità molto remota che si ripeta uno scenario di separatismo come è accaduto in Crimea.